Eccoci qui, nuovo appuntamento con Baschettin all'insegna purtroppo della delusione, della grande delusione che tutti coloro i quali ieri erano alla Giuseppe Bondi Arena hanno dovuto alla fine subire, pareva avviata verso una vittoria molto importante in chiave salvezza il club sul più 13 e la nel quarto minuto dell'ultimo parziale purtroppo ha ceduto il passo a Ravenna più motivata, si è smesso di segnare e alla fine con molto nervosismo si sono consegnati i due punti agli avversari e il club in questa situazione si è parecchio complicata la vita, ne parleremo nel corso della puntata, parleremo anche della vittoria corsara sul campo di Cividale della Tramec 100 nell'anticipo di sabato, marcia ancora trionfale per la Tramec ma chiaramente il palcoscenico inizialmente, ciao Mauro buonasera a te, andrà al club per il quale in chiave salvezza tutto da rifare. E purtroppo una patuta dal resto però ieri la Giuseppe Bondi Arena era veramente colma di passione e da un derby all'altro l'abbiamo detto, abbiamo gustato quello contro 100 per quanto riguarda Ferrare e poi ecco arrivare a Ravenna è la grandissima delusione, del resto lo sport è fatto anche di queste cose e invece grande contentezza come dicevi tu Dario a 100 perché insomma questo secondo posto in classifica a pari punti è sicuramente un ottimo biglietto da visita per affrontare il finale di stagione, finale di stagione che sarà invece molto delicato per Ferrara e noi stasera ne parleremo con Michailo Ierkovic, ciao! Buonasera a tutti! Bentornato! Grazie! Vediamo ancora un po' abbacchiato ma immagino che la sconfitta di ieri abbia lasciato il segno, ne parliamo dopo e invece in grande forma e in grande spolvero, no? Guido Foddis! Ciao a tutti, mi scuso se ho dello zucchero a velo ma qua prima si è spazzato. Ma vabbè, ma già ci svegli dietro le quinte. No, ma non si vede lo zucchero a velo. Non si vede, comunque ciao a tutti e rieccoci qua. Rieccoci qua, potete intervenire da casa 342 017 6235, seguiteci anche su facebook, sull'app di Telestense e ho detto tutto e manca solo la chiamare e dare i risultati di giornata che hai già ampiamente raccontato tu, è una giornata che per fortuna, Ierko cosa dici, almeno hanno perso le altre attorno vicino a Ferrara, possiamo dire così? L'unica cosa positiva è che diciamo le dirette contendersi hanno perso e quindi siamo ancora nella nona posizione che ci porta alla salvezza diretta dopo diciamo l'andata al ritorno. Bisogna sperare, cioè sperare, bisogna cercare di vincere le più partite possibili e anche sperare nel qualche risultato che ci va a favore nostro insomma. Esattamente quello che sperano anche tutte le altre chiaramente. Quello che rode però rode perché proprio perché tutte hanno perso Guido se ieri si vinceva era un bel viatico verso una bella salvezza. Sì, guarda, io ieri sono uscito dal palazzo con la faccia color grafene, ecco perché innanzitutto non solo era abbordabile la partita di ieri ma era doverosa per come ha giocato Ravenna perché uno vede 75-82 si fa l'idea di una Ravenna che viene a Ferrara a fare il colpaccio in brocca la giornata giusta ma non l'ho vista così, l'ho vista come una gara a chi faceva peggio. Ecco, sono uscito un po' preoccupato perché al di là del risultato secondo me ci sono delle crepe e le crepe vanno oltre i due punti proprio perché se le stucchi bene poi ricominci a vincere, se no c'è qualcosa, c'è qualcosa. C'è qualcosa e in attesa di scoprire cosa intende Guido Foddis per ci sono delle crepe andiamo a vedere anche la classifica, l'abbiamo un po' detta così a voce ma la vediamo anche scritta, in fondo abbiamo detto questa copia al comando che sicuramente fava inspirare la Tramec, Ferrara è lì, insomma in un gruppo selvaggio possiamo dire così? Pierco cosa dici? Sì, un gruppo che per adesso abbiamo scontro a favore sia contro Chiusi che contro Mantua, quindi abbiamo le partite importantissime, le prossime, diciamo a parte Forlì che è un campo caldo, un campo difficile da espugnare, le prossime sono in casa Sansevero che come vediamo la classifica, però giustamente la classifica non dice nulla perché anche la Ravenna era a dieci punti e poi alla fine si è arrivato a perdere, quindi è un girone tosto, un girone dove ognuno può vincere contro chiunque, come anche al girone d'andata si è visto con noi che abbiamo battuto sia a cento, sia a fortitudo, sia Forlì in casa che penso che nessuno ci aspettava. Eppure Guido, ieri sul più tredici eravamo nel quarto minuto dell'ultimo quarto con la squadra che funzionava, dava anche spettacolo, stoppate lassù in cielo, schiacciate canestri importanti, insomma la partita in pugno e poi cosa può accadere nella testa di questi ragazzi in queste situazioni? Allora, lo sciupare un vantaggio in realtà è una condizione che si è già verificata in questa stagione, era già successo anche proprio di recente. Ho notato che quando la squadra ha un vantaggio, una margine di sicurezza, attacca un po' con superficialità, fa dei tiri che se li imbrocchi tutti esultano e la chiudi, ma non costruisci bene, come se fosse già mentalmente una passerella. Nello sport, soprattutto il basket è maledetto per questo e quando ho visto che i tredici diventavano dieci, poi i sette, i cinque, ho capito che perché dopo è difficile riattaccare la spina del combattimento. Perché tra l'altro vanno in fiducia agli altri. Assolutamente, è quello un po' il problema, era già successo, quello che ieri mi ha colpito in negativo sono state le facce, quasi fai tu, no vado io, no fai tu, iniziative molto individuali, giro palla negli ultimi possessi che poi non hanno portato neanche un canestro, veramente raffazzonati con la speranza che qualcuno facesse una giocata bella per portare due punti che servivano, un canestro da due, ma di fatto poi non c'era predisposizione per un rimbalzo, per uno scarico, per una... era un po' tutto speriamo, speriamo, speriamo e questo nelle partite fino a Natale non c'era. infatti ieri era all'insegna dello sconforto, lo stato d'animo della tifoseria che pure era a corsa anche numerosa, ho avuto la sensazione che mentre fino a dieci giorni fa, ma forse anche subito dopo il derby con Cento, dove si è comunque venduta cara la pelle, si vedesse comunque il bicchiere mezzo pieno. Ieri ho avuto la sensazione che la gente, sullo sconforto del momento, vedesse invece il bicchiere mezzo vuoto. Sì, è un po', secondo me, la sfortuna, tra virgolette, di fare bene all'inizio del campionato, perché se Ferrara fosse arrivata sotto Natale con una classifica deficitaria e adesso avesse totalizzato gli punti che in realtà ha, vedremo il bicchiere mezzo pieno, ma quando tu fai bene nei primi tre mesi, quasi ti fai la pancia, non solo i tifosi, ma anche la società, la società che magari invece se la classifica fosse deficitaria, magari andrebbe sul mercato. Invece tutto va bene, la situazione è sotto controllo, adesso bisogna serrare i ranghi. Io ho notato una cosa che spesso succede nei campionati di Spirolecca, intanto che la squadra va meglio quando manca qualcuno, cioè quando non siamo al completo e quindi si riesce a fare il clima da spogliatoio dei bad boys che tanto peggio di così non può andare e vanno a essere corsari. E l'altra che c'è solitamente una flessione proprio nel mese di gennaio, quindi per adesso siamo sempre riusciti a raddrizzarla. Sono convinto che si può fare, ma non bisogna sottovalutare. Sei d'accordo tu, Ierco, che la squadra gioca meglio quando non è al completo? Ma penso di no. Comunque, diciamo, amici è mancato tanto. È mancato in ultimo mese, poi anche le partite prima per il discorso della spalla, quindi anche lui, come noi, diciamo cerchiamo di trovare un altro equilibrio, perché sicuramente un altro equilibrio all'interno della squadra, all'interno delle rotazioni, all'interno dei compiti che ognuno di noi ha, in il momento in cui un giocatore importante rientra. Ma c'è poco da documentare dopo le sconfitte così ovvio, che dopo si vede tutto che va male, che nulla funziona, che, diciamo, si vede, come avete detto voi, anche il bicchiere mezzo vuoto. Però penso che al momento siamo siamo lì dove dobbiamo essere. Siamo la nona posizione, abbiamo poi le partite che, come questo, dovevamo vincere, ma che possiamo vincere. Penso che nulla è ancora terminato, la stagione è lunga, abbiamo altre... Su questo non c'è dubbio, siete ancora, visto che oggi occupate la nona posizione, siete ancora padroni del vostro destino. È chiaro che più si va avanti, più ci si avvicina al punto di non ritorno. Gli errori si pagano a carissimo prezzo. Mauro. Beh, stanno arrivando tanti messaggi che andremo a leggere, però prima sentiamo cosa ha detto nella sala stampa della Giuseppe Bondiarena ieri pomeriggio. Spiro Leca. Bravi fino al trentacinquesimo, portando nel momento giusto più avanti, stando dieci più dieci più tredici, e lì la gestione è un po', non so, un po' di stanchezza, perché siamo andati a livello di scelte, c'è poco da recriminare, siamo andati cinque volte sotto, con le migliori situazioni in post basso, tre volte con campane, una volta con Smirto, una volta con Ale, e a posta lo dice puoi fare qualcosa di più fuori. Invece la logica era di andare lì, perché da lì avevamo preso il vantaggio, abbiamo aperto la scatola, dopo avevamo qui due tiri da fuori per fare il vantaggio, e il ramarico è che gli fai fare 24 punti dalle palle perse. E 29 punti nell'ultimo quarto, e 22 nei ultimi cinque minuti, 22 a 6, una roba del genere. questo è il nostro ramarico, che analizza, cercheremo di analizzare, ma c'è poco da dire. Le scelte sono state giuste, perché andiamo in post basso con quello che stava più in palla, e lì abbiamo fatto un 0-5 da sotto, peccato. Loro spalle al muro, all'arrembaggio niente da perdere, hanno trovato quelle due bombe per qualche nostra disattenzione anche, perché se fai palle perse partono 3 contro 1, segna con facilità, 24 punti dalle palle perse, alcuni erano nell'ultimo quarto. Mi viene in mente adesso una penetrazione dal fondo di Bertetti, per dare la palla a Campani, prendono la loro palla e in contropiede le ha. E questo è il ramarico, partita in ghiaccio, nel senso che sembrava già fatto quello che serviva, per cui siamo ramaricati, delusi, incavolati, perché usciamo a testa bassa, rovinando tutto nelle ultimi 5 minuti, non è la prima volta, purtroppo qualche limite ce l'abbiamo, e lo sappiamo. oggi abbiamo perso una bella occasione, perché ha perso sia Mantova che chiusi, e poteva essere un'occasione di rimanere a più quattro, così complichiamo troppo la vita, e niente, c'è poco da recriminare. Ed è chiaro, il tono di voce racconta tanto di questa dopogara. Andiamo a leggere i messaggi che arrivano alla 3420176235, leggo uno perché è fantastico. Siamo nel Tugurio, ha scritto, e qui Guido sta già pensando a quando arrivò Spiroleica, che insomma ebbe quella missione impossibile di salvare la squadra, e ci riuscì. Il Mali scrive, solo tre giocatori in condizione mentalità giusta, un po' pochino, e poi se fai giocare Pianagonda, Iercovici e Tassone, 23 minuti in totale, poi non ci si deve meravigliare se si arriva nel finale stanchi e si fanno le solite sciocchezze. Guido, cosa dici? Dico che in realtà l'esigenza ieri era quella di mantenere un livello di concentrazione, spesso i cambi sono stati dettati da errori per cui veniva consigliato un attimo di riflessione. I primi due quarti eravamo più o meno lì, ma devo dire che il livello di gioco, non so se solo a me, è sembrato abbastanza brutto. Non per colpa di Ferrara, ma anche per colpa di Ravenna. E comunque alla fine vorrei ricordare un dato. A Ravenna sono usciti per cinque falli, Oxilia e Bonacina, ed è un roster non tanto lungo, non tanto profondo, con una panchina che non offre quello che abbiamo visto per esempio da altre corrazzate della A2. Quindi è ancora più sanguinoso non aver approfittato del fatto che mancassero due pedine. Bonacina ieri ne ha messi di punti e di difese su Ferrara. Per cui è andata così, ma ripeto, i due punti alla fine li prendi e li dai, li prendi e li dai, speriamo di prenderli. Sì, comunque poi chiudiamo perché sta per finire la prima fase. Giocando in casa, uno scontro diretto così importante, vai sopra di 13, devi vincerla di 20 e ribaltare anche la differenza canestri. Questo è il segnale più grave che secondo me è emerso ieri dal campo. E siamo arrivati al primo break, ci vediamo tra pochissimo, sempre qui a Baschettin. Bentornati a Baschettin, seconda parte della nostra trasmissione. Siamo sempre in compagnia di Mihailo Jerkovic e Guido Foddis. Abbiamo ascoltato Spiroleca nel dopogara di ieri, adesso andiamo a ascoltare quel che ha detto il coach di Ravenna, lo tesoriere. Bravi fino al trentacinquesimo? No. Questo era ancora Spiroleca che solteremo dopo e adesso dovrebbe arrivare il coach di Ravenna. Tempo al netto degli ultimi due minuti dove Ferrara poi era rientrata. Ero molto contento di come avevamo gestito il ritmo della partita, dell'aver tenuto Ferrara in casa ad un punteggio basso. Questo era il nostro obiettivo e quindi diciamo a metà strada avevamo portato a casa buona parte di quello che avevamo preparato. Naturalmente tolti quei due minuti che purtroppo ci vedevano sotto nel punteggio. Purtroppo nel terzo quarto c'è stato un piccolo strappo di Ferrara che però siamo riusciti subito a ricucire chiudendo meno 5. E poi inizio quarto quarto c'è stato un ulteriore allungo che ci ha portato a meno 13. Lì siamo stati bravi a non disunirci e a continuare a difendere perché comunque bisognava continuare a difendere. In attacco avevamo avuto delle gestioni sbagliate, avevamo corso troppo e quindi questo poi ci aveva penalizzato. Non era quello che volevamo fare. Siamo stati bravi a rientrare, poi il punto a punto finale ci ha premiato. Sono contento per i ragazzi, per il fatto che stanno dimostrando comunque anche nei momenti di difficoltà di risolvere la difficoltà tecnica restando uniti. Poi qualche volta come oggi può riuscire di tornare avanti, qualche volta non ci è riuscito però questa cosa la stiamo portando avanti in tutte le partite per più minuti e la portiamo a casa insieme a due punti importantissimi. Sappiamo che c'è tanto da lavorare perché comunque alla fine forse siamo stati la squadra non che ha fatto meglio ma che ha sbagliato meno. Però ci portiamo a casa anche questo perché naturalmente nella palacanestro fa parte del gioco e come ho detto ai ragazzi tante volte in certi episodi non sono mai casuali, nel bene e nel male. Quindi stasera gli episodi sono andati nel bene per un grande lavoro difensivo finale e quindi ce lo siamo meritato. Ierco, Ravenna ieri, ma non solo ieri perché ha vinto anche la precedente gara in trasferta contro Nardò sta dimostrando di avere la mentalità giusta per affrontare la seconda parte della stagione, quella dove gli scontri diretti non li puoi perdere e dove anche quando sembra persa fai di tutto per invertire la tendenza. Però anche voi nel recente passato avete vinto partite in volata, avete vinto partite che sembravano perse. Cosa è cambiato che non ci riuscite più? Ma domanda difficile. Penso che soffriamo un po' la nostra giovane età, il fatto che siamo alla fine tutti giovani con solo, possiamo dirlo, tre giocatori che hanno fatto comunque dei campionati importanti. Io per primo sono inesperto e queste partite a questa età le soffro un po' perché comunque sono le partite importanti che ti mancano e che servono ad ogni giocatore per fare un ulteriore passo in avanti. Anche noi abbiamo vinto la stessa partita per esempio contro Cividale da sotto meno 22 che sembrava che dovessimo perdere quella partita di 40, alla fine non so in che modo l'abbiamo portata a casa. Questa più 13 sembrava fatta, come per Cividale più 22, però alla fine non siamo riusciti a portarla a casa. Il basket è questo, il fatto che vi rendiate conto di queste cose significa che siete sulla strada buona, poi è chiaro che ci si forgia nel tempo, no? Si cresce un po' alla volta Guido. Sì, quello che conta molto secondo me al di là delle singole partite è l'atteggiamento e appunto secondo me va un attimo ricompattato prima di andare a pretendere nuovamente, di andare a cercare di essere corsari da qualche parte, di rivedere quella faccia lì, quel modo lì che effettivamente non si è perso ieri, era già da inizio gennaio che non c'era la stessa faccia puntutta, però va bene, è lunga, è lunga. Ti voglio fare una domanda che riguarda Ierco perché io so già la risposta, ma voglio vedere tu se riesci a interpretare questa gioventù che gioca a basket. Dopo una sconfitta come quella di ieri, così, cocente, bruciante, secondo te oggi cosa ha fatto Ierco? Secondo me ha fatto tabula rasa in testa, direi così. Non me lo vedo andare a correre sulla mura, attaccarsi ai rami. No, infatti Ierco, posso dirlo, tu oggi hai studiato, parliamo con un neolaureato, con un dottore, oggi lui ha studiato. Cos'hai studiato, se si può sapere? In forma dell'innovazione del diritto, insomma, una roba più filosofica. È stato un tuo modo per provare a dimenticare, non star lì a macinare? Sì, sicuramente, perché la giornata mi è volata e domani mattina posso riprendere, andare in palestra e iniziare a preparare la prossima partita. Così questa deludente si, non dico dimentica, ma si va avanti, perché bisogna pensare alle prossime partite. Quello che è successo è successo, non possiamo cambiare niente. Adesso le prossime sono quelle che contano. Vedi Guido, t'ha fregato Ierco, tu non ti aspettavi. Di qui sono passati qualche centinaio di giocatori, ma credo che avesse studiato il lunedì sia un primo caso. Quindi questo, Ierco, te lo posso dire, ti fa molto onore. Grazie. Mauro, messaggi, messaggi, messaggi che arrivano, stanno arrivando a sprombattuto. Prima di criticare sarebbe meglio riempire il palazzo, numeri da serie B. Ti vedo annuire Guido. Eravamo abituati qualche anno fa ad altro e diciamo che quello che hanno fatto i giocatori nei primi tre mesi non meritava, merita un riconoscimento di fidelizzazione maggiore. Poi ci sono anche problemi di natura, credo, economiche in questo periodo particolare, però è doveroso sostenere una squadra. La squadra senza pubblico fa molta fatica ad andare avanti, quindi il pubblico è fondamentale. Tre messaggi su Amici. Se non arriva un player esperto sono guai, poi Amici, quando vuole fare il fenomeno è solo dannoso. Poi, una domanda, ma rientro di Amici, ha fatto bene alla squadra? E infine, Amici, per come stava giocando ieri, non andava cambiato a tre minuti dalla fine, non aveva neanche problemi di falli. Inconcepibile. Cioè, sono tre domande di tre ascoltatori diversi? Diversi? Ah, ecco, no, perché avevo colto tre messaggi diversi. Tre messaggi diversi che parlano sempre di Amici, però sono tre temi diversi su Amici. Lo chiedete. Certo, scusami. Intanto registriamo che polarizza. Esatto. Amici, quando c'è, polarizza. Si parla di Amici e non degli altri giocatori, quindi quando non c'era, forse si riusciva a redistribuire meglio la pressione. Diciamo che non ha fatto una partita peggio degli altri, però, secondo me, i suoi compagni di reparto devono ancora trovare quell'alchimia che includa Amici. Quell'alchimia l'avevano trovata prima, non che sia positivo abituarsi a non avere un giocatore, però adesso che c'è, vanno un po' riregistrate le dinamiche, probabilmente con gli schemi, nelle giocate, ma anche un po' nello spogliatoio con le gerarchie, perché Campani era indubbiamente fino adesso il leader indiscusso di questa squadra, non solo con i gradi da capitano. Va definito meglio il rapporto tra le teste grosse, diciamo così, della squadra. Se no, si rischia che qualcosa vada a collidere. Sì, io penso che questa squadra abbia bisogno di un Amici al servizio della squadra, non di un Amici salvatore della patria, perché in questo momento, dopo anche gli infortuni di cui accennavamo prima, anche probabilmente fisicamente non è ancora al top. Quindi io credo ci vogliono un Amici, l'assist al momento giusto, il rimbalzo, la stoppata, il tiro buono, non quello che vuole strafare. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, assolutamente. Tu dici per l'infortunio, ma anche un po' per la carta d'identità, insomma, quel giocatore che conoscevamo a Ferrara anni fa, che davvero infiammava con dei colpi di genio e dei tuffi nella polvere, deve adesso trovare la dimensione che è poi quella per cui è stato chiamato a Ferrara, credo. Andiamo a sentire la seconda dichiarazione di Spiroleca, sempre ieri al Giuseppe Bondi Arena. Noi siamo questi, ti dico, noi non possiamo fare il passo più della gamba, noi dobbiamo tenere i conti in regola, purtroppo su quell'aspetto lì non bisogna parlare, nel senso non aspetta a me, che se non c'è la possibilità la nuova società non può fare debito sulle cose, già ha dei problemi da risolvere, per questo noi con quelli che c'erano bastavano anche oggi, perché non è la prima volta, cioè quelli di blackout capitano in tutte le squadre del mondo, non è che tutti vanno avanti e vincono le partite sempre dall'inizio alla fine, però dici se sei andato a tirare da tre a sette volte, hai forzato senza motivo, sei andato di logica, sei andato con il tuo uomo migliore che ti crea l'impost basso per se stesso e per gli altri, e purtroppo abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato, lì cinque canestri da sotto e tanta roba, gli ultimi quattro minuti, questo è che purtroppo lì non possiamo farci niente, non è che chi l'ha tirato l'ha fatto apposta, gli altri l'hanno dato una toccatina, di là di qua siamo andati lì, tutti sul ferro li abbiamo lasciati, lì nella gestione, sono d'accordo con te che quando c'è uno di più esperienza, che l'ha fatto giocare, che l'ha giocato per anni in questi tipi di partite, lì gestisce meglio, ma siamo questi, non possiamo pretendere, ragazzi, è questo. Allora il coach Maur intanto ha dato una risposta all'ascoltatore di prima, dicendo che sul mercato non ci si va perché non ci sono le risorse, e quindi qui dobbiamo metterci una bella croce sopra, e poi il coach ha anche detto un'altra cosa molto giusta, con questi giocatori ieri non solo si doveva vincere, ma si poteva vincere tranquillamente se solo negli ultimi sei minuti ci fosse stato un pochino più di raziocinio. E poi ha anche risposto a un'altra domanda che gli abbiamo fatto in conferenza stampa, e cioè, adesso te la faccio a te Guido, può essere che questa squadra nelle battute conclusive faccia fatica perché manca un elemento in grado di gestire anche sul campo le giocate decisive, quelle dove la palla scotta, quello che dice, o ci penso io, oppure tranquilli, che vi mettono nelle condizioni di fare voi per bene. Sì, diciamo che ce lo potrebbe avere, nel senso che Campani ha dimostrato di poter essere quel tipo di giocatore, però non è sicuramente nelle sue doti di essere un top scorer, noi eravamo abituati anni fa quando a Esbruck c'era l'ultimo possesso, si sapeva già chi lo manipolava. Però a Campani, scusami, la palla bisogna fargliela arrivare, bisogna fargliela arrivare in un certo modo, e quando la palla scotta, il rischio della palla persa in questa squadra qui è lì in agguato, sempre. Lo dicevo prima, inizio trasmissione, che un conto è fare una circolazione di palla che porta magari Campani con un mismatch, con il difensore messo un po' storto e quindi gli ruba il tempo perché la squadra ha lavorato per. Un conto è fare il lobbettino lì sotto e dire dai Campani fai canestro per favore, sennò siamo spacciati. E questa è la condizione in cui non dovresti metterlo, perché poi magari il canestro lo fa anche perché è bravo, però poi sembra quasi, non l'abbiamo vinto perché Campani ne ha sbagliati tre. È un po' troppo pigro come atteggiamento. Decisamente. Ma se qualcuno si ricorda l'andata, vincemmo contro 100 Bologna e Forlì solo grazie alla buona sorte. Sei d'accordo, Ierco? Ma alla fine... Secondo me no, però... Ogni partita vinta all'ultimo secondo potrebbe essere la buona sorte. Cioè alla fine la parola... Posso dire la parola rotonda. Voglio dire, uno sbaglia un tiro come noi. Cioè ieri sera abbiamo sbagliato cinque tiri da sotto. Certo. E le altre partite, i due tiri, mi ricordo adesso contro la fortitudo di Campani sono entrati e abbiamo vinto. Alla fine le carte in regola ce le abbiamo. Questi siamo e siamo noni. Se c'è un altro giocatore facciamo il playoff. Forse l'ascoltatore si riferiva anche al canestro da metà campo contro la fortitudo di Andy Cliffs che però se questo ascoltatore vedesse Andy Cliffs tirare in allenamento da metà campo capirebbe che non è per niente un azzardo. Cioè Cliffs tira da metà campo come un giocatore normale tira da tre. Correggimi se sbaglio. Assolutamente vero, lo fa ogni giorno. C'è la sua routine. Io farei quasi quasi un gioco per un tiro da metà campo di Cliffs. Se ci fosse il canestro da quattro lui sarebbe il terminale ideale. E su questa pubblicità. Ci vediamo dopo. Siamo arrivati all'ultimo round di Baschettin. Vi ricordo alle 23.30 la sintesi della partita contro Ravenna e poi domattina sempre su delle stesse l'integrale dopo di noi lunedì sport con Alessandro Sovrani scoppiettante per l'arrivo di Nainggolan quindi insomma il mondo SPAL sta vivendo questo momento così insomma di euforia. Torniamo però al basket perché poi cominciamo ad inquadrare quelli che saranno i prossimi impegni per afferrare una trasferta difficile, anzi difficilissima in quel di Forlì. Ma prima di parlare anche del prossimo impegno di Cento dare direi che ascoltiamo l'ultimo contributo che è ancora una dichiarazione di Spiroleica sempre nel dopogara contro Ravenna. Qualcuno ha cercato di caricarsi di più di quello che serviva in quel momento lì non è che dovevamo recuperare eravamo in vantaggio bastava muovere un po' con un buon ritmo la palla e lì tutti sono andati a fare una palla persa insomma non è solo il playmaking anche gli altri insomma tutti hanno fatto qualche ingenuità purtroppo così ti costa e non abbiamo pace adesso perché è la partita che era indirizzata e peccato che usciamo in una partita molto importante. Sì subito dopo in conferenza stampa il coach ha parlato incalzato dalle domande del nervosismo che lo si è visto un po' tutti ti voglio chiedere anche questo il nervosismo ci sta però mi pare che soprattutto alla fine fosse troppo palpabile cioè avete fatto fatica a incanalare la tensione in un binario giusto secondo me è deleterio e questo secondo me non dovrebbe più accadere certi confronti tra di voi tra voi e l'allenatore non è un buon segnale voi arrivate a obiettivo se siete coesi sei d'accordo? Sì ma alla fine è il momento della partita ognuno di noi ci tiene vuole portare a casa la partita alla fine è un gioco agonistico poi ci possono essere diciamo malintesi tra un giocatore e un allenatore o tra i due giocatori sono delle cose che fanno parte della gara ma dopo la partita finiscono non è che c'è l'odio l'astio tra di noi alla fine penso che abbiamo fatto questo che abbiamo fatto fino adesso proprio perché siamo un gruppo unito è questo che è quello che ci fa andare avanti e che dobbiamo usare come la nostra forza un punto di forza che va sfruttato sì che è stato fino adesso certo il coach chiederà ad ognuno di voi qualcosa in più Ierkovic cosa può dare in più rispetto a quello non mi rifiurisco solo alla partita di ieri quello che Ierko ha dato fino ad oggi sicuramente dovrei dare di più rispetto alle ultime due partite dove sono stato praticamente inesistente non lo so da cosa è dato però dopo dopo la partita che ho fatto contro Rimini non sono riuscito più a diciamo a essere a essere quello sicuramente dovrei dovrei ritornare a quel livello a dare un'ulteriore mano alla squadra perché comunque i punti della panchina servono quindi Guido che ti aspetti che possa uscire in questo finale di campionato allarghiamo un po' lo zoom pensiamo al lungo finale di stagione perché insomma le occasioni di Ferrara per recuperare ci sono è vero che la situazione è inguaiata però insomma il campionato non finisce domani tu parli della zona giù o in generale no no penso dei giocatori penso ah dei giocatori sì 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 deve uscire deve uscire Campani sicuro Glierco ricopre un ruolo in campo una presenza in campo che secondo me non è sostituibile quindi devi uscire anche più ma perché Ferrara è una squadra poco fisica molto poco fisica perché ne abbiamo pochissimi ieri Ravenna si è presentata con un giuggiolone che per fortuna era scarsissimo lo posso dire perché però vederlo in riscaldamento mi ha detto ecco anche oggi abbiamo quello che ci mangia in testa però ha iniziato ha iniziato con un alley-oop così un po' traumatico dopo è riuscito a sbagliare anche i sottomani però in questi ruoli particolari dove serve la fisicità non solo il tiro da fuori siamo un po' deficitari non abbiamo molti cambi quindi questi devono uscire e bisogna che la regia perda meno palloni quindi che sia non dico prudente perché il nostro gioco è Garibaldino lo sarà fino alla fine e così Spiro l'ha impostato va probabilmente aiutato la regia perché poi se si muove meglio quello che si deve smarcare delle volte la palla la perdi anche solo perché la passi male non perché era sbagliata l'idea di darla lì o il movimento di quello che tagliavano perché ti parte il passaggio alto il passaggio quindi bisogna migliorare un po' la qualità però i loro ruoli secondo me sono quelli da cui non possiamo prescindere Proviamo a scindere in due le prossime sette partite conclusive di stagione regolare con te Ierco vorrei parlare delle partite in casa Sansevero Cividale Chiusi direi a Spanne che bisogna fare sei punti Sì sei punti che possiamo fare al girone d'andata abbiamo fatto quattro punti dove la partita contro Sansevero l'abbiamo buttata via noi quindi anche lì ci potrebbe essere dal girone d'andata un altro punto sicuramente partite da vincere che possiamo vincere che dobbiamo vincere non ci sono mezzi termini esatto poi c'è il reparto trasferte quattro partite fuori contro tre in casa fuori Forlì Nardò Fortitudo e Mantola qui cosa ti aspetti da questa squadra mi aspetto che le cose non vadano come ci aspettiamo che vadano perché poi la squadra mi ha abituato a questo cioè uno dice beh magari andiamo a vincere a Nardò e perderemo con la Fortitudo poi invece magari è il contrario perché la Fortitudo a volte stecca le partite facili per loro è un campionato in cui le favorite sono rimaste azzoppate quindi non si è ancora ben capito essendo sport di playoff io mi immagino che da fine febbraio inizio marzo cambia un po' tutto anche per queste società ti riferisci a Udine Fortitudo sì credo che vada così se no per loro sarà altro che problemi di Ferrara sarà il flop della storia per questo tipo di società però non darei così per scontato che quelle sotto di noi in classifica si abbordano in trasferta mentre con quelle altre si parte rassegnati perché poi anche secondo me Ferrara è una squadra che tende a essere sottovalutata da quelle forti tra virgolette e ci fanno un grandissimo favore abbiamo lucrato molto su questo però c'è qualcuno ieri che per esempio che dice che voi contro le squadre forti siete meglio predisposti a vendere cara alla pelle e spesso la vendete a tal punto che vincete è capitato è un caso c'è d'accordo ma possiamo dire che entriamo in quelle partite pensando che guarda non abbiamo nulla da perdere a volte è proprio tutto lì è sicuramente è una c'è tutta questione di test la partita di ieri si è sentita tra di noi perché era una partita importante che dovevamo vincere contro il diretto avversario per poi un'eventuale diciamo la gara per la salvezza oppure la salvezza diretta un po' Reggio Emilia che la settimana scorsa batte Milano che Milano in Eurolega è un sacco da botte ma in campionato è leader eppure sono cose che capitano quindi è giustissima la tua osservazione di prima è così possiamo anche magari pensare di portare un po' di quei pasticini che ci sono qua dietro però così giocano più leggeri come testa magari no come stomaco però sì ci vuole anche un po' di adesso abbiamo parlato di autoflagellazione fino a questa mezz'ora ma ci vuole anche un po' di leggerezza forza su ma anche il derby con 100 secondo me Ferrari era molto tesa no? forse il derby d'andata l'avete affrontato con maggiore leggerezza forse non eravamo ancora consapevoli noi diciamo ne è arrivati dell'importanza che quella partita porta per tutta la diciamo per la tifoseria non lo so però sicuramente non era per nulla facile giocare in quell'ambiente come quello di 100 inquadriamo il prossimo impegno si va a Forlì cosa ci puoi dire? ma loro una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato all'andata molto diversa hanno due giocatori di di punta che all'andata non avevano quindi sicuro e hanno un altro americano che sta facendo la parecchia differenza in questo campionato da quando è arrivato quindi è una squadra completamente diversa beh secondo me anche voi siete una squadra lasciamo stare le ultime due partite ma anche voi siete una squadra diversa da quella che ha iniziato il campionato strada facendo avete avuto diverse occasioni per capire che c'era più di quello che la maggior parte della gente credeva ci fosse in questa squadra o no quello sicuramente io nell'ultimo periodo non mi ricordo la partita dove diciamo siamo stati presi a a botte da ma neanche la prima la prima la prima la prima veramente fu una roba che era che critica adesso andare a vedere la prima contro Udine si trova la prima partita andate a vedere come giocavamo lì veramente uscimmo sì ma si ammortizzò bene il colpo perché tutti pensavano che Udine fosse una mazza campionato che avesse già vinto ma anche perché Spiro è un volpone ci sguazza in questi atteggiamenti di sottovalutazione della sua squadra lui secondo me è lì che dà veramente il colpo dentro lo spogliatoio guardate guardate come guardate come cosa pensano di noi e quindi in realtà da lì in poi il club si è evoluto mentre a 100 ospiterà Ravenna in una gara serale visto gli appuntamenti del carnevale partita facile pronostico Guido allora per questa 100 è tutto facile potrebbe battere anche Milano se ci giocassero solo se fossimo in Eurolega in questo momento poi è una ruota che gira nel senso che i momenti di forma hanno dei picchi hanno degli abbassamenti secondo te può arrivare in fondo con questo smalto difficile io ho sempre diffidato di chi fa miracoli in regular season nel basket perché per te il basket è un gioco da playoff per me è un gioco da playoff che prima dicevi l'effetto Maran sì 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 cioè alla fine in questo tipo di campionati tu puoi arrivare a punteggio pieno a fine marzo ma se poi ti si fa male un giocatore importante inizi a non crederci a non aver fiducia perdi tutto e quindi la promozione si fa ai playoff e visto che parliamo di playoff secondo te il tuo giocatore preferito in serie A come si comporterà i playoff? qual è il tuo giocatore preferito in serie A? parliamo di Milo Stoedosi ah certo certo quello non è un giocatore di serie A è un giocatore di livello mondiale ho detto in serie A ho detto nella serie A italiana ci gioca poco perché riposa per le partite infrasettimanali no anche lì diciamo che tutti aspettano il remake della finale dell'anno scorso e tutti i playoff che ci saranno prima potranno solo essere una caccia alla sorpresa per eliminare una delle due ma per come vive negli ultimi anni il campionato di A1 è una sfida A2 dove tutti gli altri provano ma statisticamente non ci stanno riuscendo molto a inserirsi Dario siamo in conclusione e direi che l'appuntamento è per domenica la Uni Euro Arena sicuramente clima caliente siete pronti ad affrontare un altro catino pieno di tifo? Sì siamo lì apposta intanto l'avete già battuta Forlì quindi avete creato un precedente e poi credo che dentro di voi ci sia proprio la voglia di una rivincita pronta no? Di un riscatto di dimostrare a tutti che questo è solo un brutto episodio che non capiterà più invertire una tendenza invertire una tendenza che vede Ferrara purtroppo sconfitta cinque volte nelle ultime sei gare quindi adesso è il momento di compattare il gruppo di stringersi cento chilometri Ferrara Forlì sì niente tutti a Forlì tutti a Forlì quindi è il momento di compattare sicuramente i ranghi e vedere di trovare una vittoria avendo detto l'appuntamento invece per cento sarà sicuramente più agevole ovviamente il basket va vissuto per 40 minuti però il pronostico è a favore della trame quindi vedremo cosa succederà domenica prossima e noi saremo qui come al solito per commentarlo lo ricordo dopo di noi lunedì sport Alessandro Sovani è già pronto a delettare in studio per parlare della notizia di giornata ovvero l'arrivo a Ferrara di Naingolanda direi che è tutto grazie Guido per essere stato con noi grazie a voi cosa farai prossimamente? in campo sportivo? in campo sportivo? no penso che mi preparerò per il Giro d'Italia a maggio ancora ho tanto basket che voglio vedere grazie Ier per essere stato con noi buona settimana di lavoro grazie Dario direi che non ti resta altro che salutare dall'appuntamento l'anno prossimo con Baschettino buona serata grazie a tutti grazie a tutti